stato un infermiere impietosito che visto che siamo qua tipo da 3-4 ore più o meno e ha chiesto a Ina se volevano yogurt è stato veramente gentilissimo e carino e ha dato un bello yogurt con me anche gusto in alla banana dai almeno anche perché sono ormai le sei di sera sei e mezza forse anche siamo arrivati alle tre e mezza e iniziamo anche ad avere fame speriamo ci chiamino subito li aggiorniamo tanto Ina mangia lo yogurt e io lo guardo ok per ingannare il tempo ragazzi abbiamo trovato fogli carta e penna e ci siamo messi a giocare a nomi cose animali e cibo ecco qua va bene speriamo che ci chiamino subito in vero è passata un'altra ora comunque siamo ancora qua vabbè speriamo ci qua ragazzi siamo finalmente usciti intanto si è fatto buio guardate voi sono le 8 di sera Ina fai vedere il dito eccolo qua mi hanno messo questa specie di diciamo tutore insomma per tenere il dito fermo in realtà ha un lieve di staccamento nulla di grave e niente deve tenere questo tutore giusto quanto senti fin quando non sente smettere il dolore però dovrebbe in teoria andare a posto da solo non è niente di così grave insomma naturalmente dovrebbe sistemarsi il dito ok va bene dai andiamo a casa a mangiare che siamo super affamate via